E io vorrei parlarvi dell'utopia proprio come se fosse seduta qui adesso in sala con noi, cioè non come una cosa lontana, un rifugio a cui ricorrere quando siamo stanchi della realtà, ma una nostra possibilità quotidiana di vivere con speranza. Un regno del desiderare, lo scoprire che ci sono vicino a noi dei paesaggi mai visti, che si svelano, che si svelano inattesi, che sono meravigliosi, orribili, però che vale la pena di conoscere. È qualcosa che tiene insieme la nostra unicità di sognatori, il nostro vivere quotidiano di pensatori, è un legame con la varietà del mondo che ci rende avventurieri, viaggiatori, criminali, innamorati, senza separarci dal mondo, ma insegnandoci a scoprire quanti altri mondi contiene. È il focolare della nostra casa quotidiana che ci collega alle stelle, come diceva un grande utopista, Gaston Bachelard, le seduzioni dell'intimità e le avventure dell'universo. Grazie. Grazie.